Buongiorno a tutti, oggi vedremo come avviare una video lezione su Collabora. Innanzitutto si parte dal registro elettronico di Axios, si fa accesso e poi si va a cercare la piattaforma Collabora. Una volta entrati bisogna andare a definire la nuova lezione, per cui crea una nuova lezione, in questo caso io inserisco la materia, selezionare il tipo di lezione, una video lezione, vado a mettere l'argomento, io scrivo prova in questo caso, potrei scrivere italiano classe terza A, terza B, eccetera, e la data della lezione, quindi la posso anche calendarizzare, la descrizione, come vedete, c'è l'asterisco e quindi è una parte obbligatoria. Poi, pianificazione della video lezione, abilita bottone di accesso alla video lezione, l'ho abilitato tramite Gipsy, posso inserire la data e l'ora dell'inizio e della fine, quindi l'ora alle 9.31 per esempio, e l'ora della fine, anche in questo caso posso inserire l'orario, quindi l'ora di chiusura. Poi, selezionare eventuali altri docenti, se per esempio nella classe abbiamo una compresenza oppure l'insegnante di sostegno, quindi si va a vedere nell'ambito di questo elenco, poi, e si aggiunge, si seleziona la classe, in questo caso io voglio, scelgo una delle classi, se è per tutta la classe basta fare, basta cliccare, fregare il primo quadratino, se invece si tratta di un piccolo gruppo, allora, oppure di un unico alunno, si va a indicare soltanto il nominativo. Poi, una volta fatto questo, è possibile inviare anche una notifica sulle app delle famiglie, se vogliamo, e se l'hanno scaricata, salva ed invia. Nel momento in cui salviamo e inviamo, nella schermata iniziale comparirà la nostra lezione. Come vedete, già ce n'era una che è stata fatta come prova preliminare, la nostra, quella delle 9 e 31, l'abbiamo qui. Quindi, basta cliccare su avvia video lezione e l'insegnante può avviare la video lezione, l'alunno non può avviarla, può semplicemente partecipare. Quindi l'alunno troverà questo rettangolo in cui compare la parola partecipa e parteciperà semplicemente. Cliccando su avvia comparirà questa schermata in cui, per la prima volta, dovete dare alla LAP la possibilità di utilizzare il microfono e la telecamera. Altrimenti, non potete essere sentiti. Una volta fatto questo, gli alunni parteciperanno e la schermata è quella di Gizzi, quindi molto semplice e veloce. C'è un menu di comandi, per esempio, qui si può condividere lo schermo ed è possibile condividere lo schermo del computer, una scheda di Chrome oppure una finestra con un file che noi abbiamo. Oppure condividi l'audio e quindi è possibile anche condividere l'audio del nostro computer. Poi è possibile alzare e abbassare la mano e quindi un intervento e anche una chat per parlare con gli alunni, anche perché noi ricordiamo agli alunni di entrare nella video lezione, dopo aver salutato, chiudere il microfono e rimanere in ascolto. Poi, qui ci sono altre notizie importanti, più azioni. È possibile, per esempio, bloccare il microfono di tutti, tranne il proprio, di condividere un video YouTube, quindi basta copiare e incollare qui il link al video per poterlo condividere e anche registrare, volendo si potrebbe registrare e lasciare sulla piattaforma. Quindi, si possono invitare altre persone e quindi diventa molto semplice operare, insomma, sulla piattaforma collabora, anche perché in questo modo noi non dobbiamo fare il doppio lavoro di passaggio da una piattaforma ad un'altra, ma è già tutto registrato e va a finire sul registro elettronico.